Quest'ora solare, ben trovati, grazie di aprire ancora una volta le porte della vostra casa, ovunque vi troviate, parte con momenti di gloria. Sapete perché? Perché parleremo di quell'uomo che è e resterà per sempre la freccia del sud. Ha vinto più di 20 medaglie d'oro, argento e bronzo, 1972 sul record mondiale, conquistato nel 79 Città del Messico, che rimane imbattuto per 17 anni. Era non soltanto un atleta unico al mondo, era, è e rimane una persona unica al mondo. Parliamo di Pietro Mennea, ne parliamo con tutto l'amore possibile con Manuela Olivieri Mennea, sua moglie. Grazie Manuela, ben arrivata. Ci abbraceremo ma non lo facciamo. Allora, sì, succede, non si preoccupi, può accadere. Anche io mi sono inciampata prima perché parlare di suo marito, parlare di Pietro Mennea, che è inequivocabilmente suo marito, ma è un parente di tutti noi, è una persona di famiglia per tutti, anche per quelli che non erano nati quando lui vinceva, è una grandissima emozione. E com'era suo marito? Mi faccia una fotografia. Pietro era una persona davvero speciale, poi per me solo Pietro. Era una persona simpatica, divertente, colta, veramente un compagno di vita con cui io vivevo veramente ogni secondo della vita perché noi lavoravamo anche insieme. Quindi io dico sempre la prima persona che vedevo quando aprivi gli occhi, l'ultima quando li chiudevo. Ma non ci si annoiava mai. Era una persona sempre piena di interessi, piena di curiosità. Quindi bello stare con lui sempre. Lei è un generatore automatico di energia positiva, Manuela. Io la chiamo Manuela, non la chiamo Avvocato, non scendo con tutti i titoli. Perché lei riesce a parlare, sono passati nove anni da quando Pietro Mennea, fatemelo dire, è andato veramente a correre altrove, in un altrove con la maiuscola. Lei riesce a, come dire, continuare a parlare d'amore. Perché il vostro è stato un amore grande, immenso. Anche se quando vi siete conosciuti, questa meravigliosa ragazza lo dice lei o lo dico io? Lo dico io. Dunque io quando ho conosciuto Pietro alla fine del 1990, non sapevo praticamente chi fosse. Ma Avvocato, ma mi cascano le braccia. Come non sapeva chi fosse? Allora, sapevo che era una persona che aveva fatto sport. Beh, sì, vagamente. Però forse è stato il nostro segreto. Perché lui era sicuro che io non uscivo con lui perché era Pietro Mennea. Però è stato divertente perché un certo giorno viene, perché siamo usciti tanto tempo in realtà prima di metterci insieme, io ho avuto modo di conoscerlo, è arrivato con un librone con tanti ritagli di giornale che suo papà e sua sorella avevano fatto mentre lui correva. Uno dei tanti libroni. E mi disse, vedi io però qualcosa nello sport e ho fatto. Qualcosa. Allora, noi... Allora, Pietro Mennea è lo sport italiano. Proprio è. Voce e verbo essere. Non c'è nient'altro da dire. È Mennea, cioè questo campione dei campioni. E lei, grazie infinite, ci aiuterà a svelarlo anche da un punto di vista più intimo, più personale. Per esempio, il fatto che quando siete andati a cena, credo la prima volta, ecco, non abbia esattamente scelto un ristorante romano. Sì, siamo andati in realtà a pranzo. A pranzo, scusate. No, non lo posso sapere. Dunque lui mi è venuto a prendere dicendo andiamo a pranzo fuori. E vedo che usciamo da Roma e io dico, chissà dove era così. E mi porta a Formia, mi porta a mangiare al Miramare dove lui ha vissuto per 15 anni perché lui lì si sentiva a casa e mi ha presentato questo signore anziano, Geppino Nardi, che è stato per lui come un secondo papà, era un signore non sposato che stava sempre con lui. Tra l'altro è stato il suo testimone di nozze e lui lì si sentiva a casa. Io non mi sono resa conto che in realtà stavo sotto esame in quel momento. Certamente, però perché Formia era la seconda patria, diciamo così per patria intendo dire rispetto al luogo di nascita di Pietro Mennea, cioè il luogo dove lui ha affaticato tanto, ha affaticato tanto Mennea. Mennea ha corso ma si è conquistato metro per metro tutto quello che ha vinto e Formia è stato un luogo importante. Sì, lui diceva che quello era il posto ideale per allenarsi, il clima giusto, la giusta concentrazione. Lui quando smisse la seconda volta nell'84 tornò a Roma e poi quando cominciò a allenarsi andava all'acqua cetosa, allo stadio dell'acqua cetosa, ma lì non aveva la giusta concentrazione. Aveva appena comprato casa qui a Roma, chiuse tutta casa e tornò ad allenarsi a Formia. Era tenace Pietro Mennea? Assolutamente. Le ha mai raccontato perché abbia iniziato a correre? I ragazzini corrono, parliamone, cioè voglio dire ai bambini più attivi piace correre, però questo bambino prese sul serio la parola correre, il verbo correre. Allora, lui ha cominciato a scuola e non era neanche tanto piccolo, aveva 16 anni. Pazzesco. È pazzesco. A scuola c'era questo professore a Torino che è stato in realtà il suo vero scopritore, che era un avvocato, che aveva lasciato la professione, deluso dalla professione e si era messo a insegnare ai giovani. E loro correvano per le scale perché non avevano nessun tipo di struttura. Correvano per le scale? Sì, 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 correvano, non avevano struttura. E poi cominciò a correre contro quello che era il ragazzino più veloce che c'era nella scuola. E poi in realtà cominciarono ad esserci anche la sera lo chiamavano per sfidare le macchine. Ah, questo ce lo sentiremo dire da Pietro Mennea stesso. Ma sfidare le macchine, cioè correre sulla strada a fianco, chiaramente alle macchine. Sì, se le macchine partivano a motore spento, partivano a fianco, sono sui 60 metri. Se invece partivano a motore acceso, Pietro partiva 10 metri avanti. Senta, vivere con quest'uomo, lei ha detto la prima persona che vedevo alzandomi e l'ultima andando a dormire. E vivere di tutti i racconti che lei ha scoperto dopo, di tutte, e per racconti intendo dire non soltanto un'impresa sportiva che già da sola basta, è sufficiente, ma di tutto il bene che le persone gli volevano. Che impressione le facevano? Bellissimo. E Pietro quando le persone gli facevano i complimenti, tante volte diceva vedi, allora vuol dire che qualcosa di buono l'ho fatto. E lui la soddisfazione di vedere negli occhi delle persone, ma delle persone che incontrava più strada, la gioia di Sal, poi Pietro era molto disponibile, quindi si fermava, c'era molto amore nei suoi confronti. Ma lui questo era ricambiato, anche perché poi Pietro parlava proprio anche di una responsabilità sociale di un campione. Lui l'ha fatto. Lui l'ha fatto praticamente, perché diceva un campione viene preso da esempio, soprattutto dai più giovani. E a Manuela Olivieri Mennea oggi i giovani si rivolgono, e come si si rivolgono, ma di questo ne parliamo tra poco, va nelle scuole, perché ci sono i più piccoli, stante che i più grandi vivono con Mennea stampato nel cuore, che lo vogliono conoscere. Pietro, Paolo, Mennea, la freccia del sud, il migliore, l'unico. Ne parliamo tra un attimo. Abbiamo l'enorme piacere di avere in studio con noi oggi la solarissima ed elegantissima Manuela Olivieri Mennea. Grazie. Elegante non solo nell'abili. La moglie di Pietro Mennea, il nostro caro amico Marino Bartoletti. Marino Bartoletti parlando di Pietro Mennea scrive Pietro Mennea era un uomo che la natura aveva creato, virgolette, normale. Fu lui a costruire su quella normalità, con sacrificio, impegno e intelligenza, una storia di vita diversa, dove la normalità ha la N maiuscola alta come una montagna, perché questo lo si vedeva in pista e fuori pista. Pietro Mennea studiò tutta la vita. Possiamo dire questo? Era un uomo curioso. Aveva proprio voglia di imparare, voglia di migliorarsi. Lui già cominciò a studiare mentre era un atleta. Già si faceva tutto quell'impegno ma studiava di nascosto, perché al tempo si pensava che l'atleta non dovesse distogliere il suo impegno dall'allenamento. Quindi lui in realtà, tornato dagli allenamenti, andava in camera e studiava. Lui diceva di andare a trovare i genitori a Barletta e in realtà andava a Bari a fare gli esami. E lì così ha preso la sua prima laurea, dopo aver preso il diploma ISEF. Ed è la prima? La prima. La prima di? La prima di quattro. Quattro lauree, Pietro Mennea. Quattro lauree e che voi ci crediate o meno, ma noi ci crediamo perché ce lo dice sua moglie. Un amore talmente esperticato per i libri che comprò un appartamento per tenere dentro i libri. Per tenere solo i libri. Perché comunque i libri pesano e si rischiava di sprofondare, perché anche se di distribuirli tra studio e casa, ma si rischiava di cadere. Si rischiava di cadere, anche perché, voglio dire, ribadisco ancora una volta, Manuela è avvocato. Provate ad immaginare che meraviglia, che altezza di intelligenza, di talento questi due, marito e moglie. A proposito di talento, tentai in un'intervista che Pietro Mennea ci ha concesso nel 2008, qui a TV2000, il programma si chiamava Novecento contro luce, io parlai di talento con questo signore che mi emozionava avere seduto davanti. Sentite la risposta? Mennea. Lei è un talento, inequivocabilmente parlando, lei è un talento. Non è eccelso però. Non è eccelso? Pensi fosse stato eccelso, dottor Mennea. Dove saremo arrivati? No, buono. Qualche dote innata c'è, però io ho costruito tutto attraverso il lavoro quotidiano. L'impegno giornaliero, la dedizione, la passione, grandi sacrifici. Io mi allenavo 5 sore al giorno. E mi allenavo tutti i giorni. 300. Siccome annotavo tutti gli allenamenti nei vari anni, ho contato un anno, ma diversi anni, 350 giorni l'anno, tra allenamenti e gare. 300, quindi riposavo 15 giorni. Prima di arrivare ai campionati studenteschi ho cominciato a correre sfidando le macchine, le grandi cilindrate. Nel viale della città sfidavo Porsche Alfa Romeo 1750. E mi tolgo la curiosità, correva più veloce l'era? Sì, ho vinto quasi sempre, però sulle distanze brevi. Sulle distanze brevi? Adorato, adorato Pietro Mennea, che uomo, che uomo meraviglioso. Che parla di quei 352 giorni come la vita di una persona che passi la vita lavorando. L'atletica era il suo lavoro. Sì, ma lui diceva che con il sacrificio, impegno e determinazione si può arrivare comunque. Tutti possono arrivare. Lui diceva che se l'ho fatto io lo può fare chiunque. E lui, devo dire, che andando a parlare ai ragazzi, diceva che la parola ma e la parola impossibile non esistono. E di questo mi sono resa conto che i ragazzi rimanevano molto colpiti da questa cosa. Certo. Ma in fondo pensiamo, lui raccontò questo aneddoto, che lui andò nella sua prima gara importante a Termoli, in una finale di giochi studenteschi, e quella sera si disputava la finale di Città del Messico con Tommy Smith nel 68, lui aveva 16 anni. E lui mi disse, vi uvidi quella finale in televisione? E dissi chissà se un giorno. E lui, 11 anni dopo, batte proprio quel record su quella stessa pista a un uomo a cui non avrebbe voluto battere, perché lui comunque ammirava come uomo Tommy Smith per i valori che aveva rappresentato. Per i valori. Tommy Smith è questo signore, un uomo che quando vince mette un guanto di pelle nera. Avevano tutti i motivi per farlo, sia chiaro. Potevano farlo, dovevano farlo, e poi gesti di questo tipo ti costano anche l'allontanamento. Pietro l'ha conosciuto, Tommy Smith, quando è venuto a Roma. E devo dire che Tommy Smith, quando Pietro è morto, è venuto. Cioè è stato un gesto bellissimo, il suo primo Mennede è stato qui. E raccontava gli aneddoti. Quando gli dissero che un uomo, un italiano, aveva battuto il suo record, lui disse, ma chi è? E poi quando l'ha conosciuto, Tommy raccontò, però mi sono reso conto che lui correva veloce, ma di testa. Che bella cosa che dice. Correva veloce, di testa. Ha detto Tommy Smith in un'intervista. No, vada, vada. E poi ci raccontò appunto quanto pagò quel gesto. Lui, Pietro, rimase colpito che lui, mentre era ancora atleta, andò a fare uno stage a San Diego e volle conoscere Tommy Smith, lui in quel periodo ancora non poteva entrare nell'università, non lo facevano entrare. Che orrore. Posso dirlo? Scusi, l'ho detto io, che orrore. Doppio orrore. Però provate ad immaginare che allineamento di pianeti, quando Smith e Menea si trovano, il ragazzino che aveva visto la gara in tv. Sì. È tanto. Che disse, chissasse un giorno. Chissasse un giorno. Cioè, il sogno, il fatto del paese diceva, il sogno, i sogni bisogna averli, porsi degli obiettivi, anche che sembrano impossibili, quando l'ho conosciuto. Io parlavo, lui mi parlava di tanti progetti che mi sembravano inarrivabili, e lui mi diceva, una volta scherzando, mi disse, meno male che non ti ho conosciuto prima, se non andò a vendere i chinoti. Perché io dicevo, no, guarda, non è possibile. E lui mi ha detto, guarda, non è così, perché tu ti devi porre 100 obiettivi, poi ne realizzi 4, va bene. Va bene così. Era campione sempre? Sì, in tutto quello che faceva. Questo è un ragionamento che fanno i campioni, no? Sì, lui era, vabbè, io sono sempre di parte, però era così. Lui si poneva degli obiettivi, li raggiungeva, ma di questo parlava i ragazzi. Voi vi dovete porre un obiettivo, mettere un'asticella in alto, la raggiungete, raggiungete quell'obiettivo e ve ne ponete un altro più in alto. E così si va sempre avanti, perché qualcosa si ottiene sempre. Allora, perdonate un po' di sana e robusta commozione, anche perché, ribadisco, a casa mia, Mennea si seguiva così, ma non solo a casa mia. Lui partiva e dopo un po' tutta la compagine di famiglia si avvicinava al televisore, come se uno lo potesse spingere. Cioè non abbiamo mai finito di vedere una gara di Mennea senza essere davanti alla TV. Ma questa è cosa che riguarda più o meno tutti noi, ricordi personali. Che cosa mangiava Pietro Mennea? Che cosa mangiava un atleta così perfetto? Guardate questo minuto e 28 secondi. Meraviglia. Qual era un piatto di cui andava particolarmente ghiotto da bambino? Beh, da noi si mangiava all'epoca pane bagnato nell'acqua con un po' d'olio e pomodoro. Poi pasta al forno, oppure pasta col sugo, con gli involtini di sugo. E un aneddoto singolare è stato che una volta sono andato a un convegno sull'alimentazione, perché molti medici erano curiosi di sapere cosa io avevo mangiato per conseguire il regolo del mondo a Città del Messico. Sì. Purtroppo il problema è che poi c'erano le gambe e il fisico e la testa di Mennea. Quindi pensavano... Una volta ho fatto a Salerno il regolo di italiano all'Ieve nel 69, campionati italiani AX, e prima della gara avevo mangiato tre piatte di pasta al forno, perché a Salerno la pasta al forno è buona. Buona, assai. Non vi hanno salutato più. Meraviglioso. E poi proprio il ragazzo del sud, voglio dire, rimaneva quello, no? Sì, ma era così. Rimaneva quello. Era questo. Sì. La sua mamma che non voleva inizialmente che lui si dedicasse alla corsa, poi la sua famiglia... Sì, la vedeva come una cosa che non era un lavoro, insomma, dedicarsi alla corsa, però fu famoso perché una volta, quando lui disse che non voleva più studiare, quei momenti di crisi, a un certo punto gli tirò un bicchiere che si ruppe. E alla fine, quando a un certo punto, scherzando, quando prese le sue altele, era già grande. La mamma l'ha sempre conservato questo bicchiere e disse, Pietro, per fermarti cosa devo tenertene un altro? Ma che meraviglia. Perché lui diceva, ma adesso basta, adesso pensa sei grande, basta smettila di studiare, di continuare a prendere lauree. A colpi di bicchiere, questa famiglia bellissima, insomma, orgogliosissima di essere imennea di Pietro Paolo, perché poi è così, fatalmente tu diventi simbolo per tutti i tuoi cari, per tutta la tua gente. Allora, un'altra cosa, e poi siamo a Barletta, dalle sconfitte, perché un vero campione è tale se perde, qualche volta, Montreal, lui arrivò quarto, lui però, appunto, sognava, capiva di dover cambiare e rialzava l'asticella. Allora, Pietro parlava delle sconfitte e soprattutto ne parlava ai ragazzi come un'esperienza. Un'esperienza che serve ed è indispensabile per poter andare avanti. Allora, lui di Montreal, appunto, che considerava una sconfitta, essere arrivato quarto alle Olimpiadi, quarto al mondo, che non è esattamente così, ma per lui a Montreal avrebbe dovuto vincere, di sì, da quella sconfitta ho tirato fuori i quattro anni più belli della mia carriera sportiva, perché nel 78 ho vinto i 100 e i 200 a Praga, campionati europei, nel 79 ho conseguito il record del mondo a Città del Messico e nell'80 ho vinto l'Olimpiadi a Mosca. Oh, ci stiamo arrivando. Quindi, dal quarto posto al mondo, Mennea prende la rincorsa e fa tutte queste cose. Poi, tra un attimo, ripetisco, siamo a Barletta. Come gliel'ha raccontato quel giorno a Città del Messico? L'ha raccontato alla donna del suo cuore? Come ne ha narrato quel momento? Pazzesco, no? Dunque, Città del Messico è il record del mondo. Il record del mondo. Il record del mondo, tutti hanno detto, molti l'hanno un po' sminuito dicendo e quella è fatta in altura. Sì. Però, in realtà, lui mi ha detto, dunque, quel giorno più vicicava. Quindi non è che ci fossero proprio le condizioni ideali. No, non c'erano. E in ogni caso è stato comunque un record voluto con tutta la forza, veramente. Poi, un bel tacer non fu mai scritto talvolta, no? Per certe persone, ma questo... Sì, infatti, tutti hanno detto, se l'ha battuto Mennea in tre mesi, sarebbe abbattuto un'altra volta. Come no? In 17 anni, ancora il record europeo. Ancora lì che aspettano. E comunque lui mi ha fatto notare, perché chiaramente la moglie è un privilegio, soprattutto io che non venivo dallo sport, di chiedere anche tutte le stupidaggini, fondamentalmente. E lui mi ha detto, però facci caso. Lui era talmente leggero, perché lui era un fisico di un mezzofondista ed era un velocista, che in curva lui alza un gomito, perché c'era la forza centrifuga che lo portava fuori per la velocità. Ah, però... E quindi... E si vede anche la sua corsa, che rimane composta, mentre gli altri, nel rettilineo, a un certo punto, pur di cercare di rimanerli dietro, sono tutti scomposti. E lui invece ha questa corsa molto fluida, molto regolare, ed arriva. E lui se lo aspettava, perché giorni prima aveva fatto un ottimo tempo in batteria, soltanto che c'era ancora il cronometraggio manuale e non l'avevano registrato. Non l'avevano registrato. Allora, 1980. 1980. Dove eravate? Dove eravate? Lo sapete tutti dove eravate, quel giorno, quando Pietro Paolo Mennea fa una cosa... incredibile! E invece verissima? E vince l'oro alle Olimpiadi di Mosca. Sì. Insomma... Allora, lì c'è tutto un prologo, in realtà, perché Pietro era stato eliminato in semifinale e ne cento. Quindi, se uno si va a rileggere i vari libroni che ho, lo davano per sconfitto, per perso, finito. E lui mi raccontò che quelle furono le 48 ore più importanti della sua carriera sportiva, perché riuscì a trasformare una sconfitta in una vittoria. Che vittoria! Tra l'altro, ci fu qualcosa che non funzionò, perché lui per i risultati ottenuti doveva andare in quarta corsia, invece uscì dalla sala di chiamata ed fu un'ottava. In ottava dice che tu non hai riferimenti. E quindi lui doveva correre solo su se stesso. E io, chiaramente, sempre la moglie che può chiedere, ma scusa, ma che ti è girato per la testa per passare dalla sesta posizione a in primo? Dice, guarda, io in quel momento è come se mi fossi messa in moto e ho pensato questa è la mia terza Olimpiade. Se non la vincerò sarà un tassello che manca nel mio mosaico di vittorie. e quindi quella cosa gli ha dato la forza per cambiare marce e ripartire. Sì. Lui poi l'ha giustificata dicendo in realtà che lì ha perso Wells perché era già pagato dalla vittoria dei cento, io non si è accorto che io ero in rimonto e sono arrivato, ma quella secondo me non è una cosa tecnica, perché io poi gli ho detto scusa Pietro, tu hai vinto per due centesimi, ma che ti sei messa a alzare le braccia prima dell'arrivo. Ma è meraviglioso! La donna che non sapeva chi fosse Mennea che gli dice ma cosa hai alzato le braccia prima dell'arrivo? Era per parare le urla che arrivavano da tutta Italia e da tutti gli italiani nel mondo e anche i non italiani. Cara Manuela, per quello forse lui ha alzato le mani. E lui mi ha detto noi ci rendiamo conto anche due centesimi velocissimi, tu sai, lo sai, lo vedi, cioè chi fa questo si accorge che sei arrivato prima anche di due centesimi. Dunque, due centesimi e voi dite ma piange un campione? No, siamo abituati, giustamente, scarichi anche la tensione. Piangeva Mennea? Vediamo. Lei piangeva mai dopo di felicità da solo quando non l'endeva nessuno? Ho pianto, glielo dico con tutta onestà e franchezza, ho pianto prima della finale di Mosca perché ero consapevole di non essere in condizioni di forma. Mi avevano escluso dai cento metri, ero stato eliminato in semifinale e ero consapevole che non ero in condizioni per poter difendermi al meglio. Avevo già partecipato a due edizioni dei giochi olimpici, era la mia terza edizione. Io qui rischio di perdere anche qui in questa edizione la medaglia d'oro che poi è il traguardo più importante e mi ricordo senza vergognarsi di dirlo, non mi vergogno, ho pianto perché mi stava scappando qualcosa. Allora? Allora lì è venuto fuori, non è venuto fuori la preparazione, è venuto fuori il temperamento e il carattere. Pietro Mennea ne riparliamo con la sua meravigliosa moglie e tra poco vi stiamo aspettando. Ve lo ricordate l'urlo di tutto il condominio per cui abbiamo temuto di dover rimettere i vetri al portone d'ingresso quando Pietro Paolo Mennea ha vinto l'oro a Mosca. Ci vediamo tra un attimo. Eh, lo volevo dire. Pietro Mennea, Pietro Mennea con Manuela, Olivieri Mennea, avvocato, moglie, donna adorabile. Grazie. Lo lascio dire in questo. Come le ha chiesto di sposarlo? Guardi, è stata una cosa abbastanza divertente anche quella. noi eravamo insieme già da sette anni, a un certo punto stavamo a studio insieme, era a maggio e abbiamo visto che il suo compleanno il 28 giugno veniva di sabato. Mi si gira e fa ma perché non ci sposiamo? Noi ci siamo sposati il giorno del suo compleanno preparando il matrimonio in un mese. Tutti dicono ci vuole tempo. Ma la freccia del sud che tempo vuole? È l'uomo più veloce che esista per cui si poteva fare. Quanto siete belli. Quanto siete belli. Scusi, mi permetta, scusi la domanda ma io gliel'ho proprio fatta così perché non ci sposiamo. Allora, quando andate allo Stadio dei Marmi a Roma vedrete che lo Stadio dei Marmi è giustamente, saggiamente, noi abbiamo preso l'immagine proprio dal sito del CONI, Stadio dei Marmi Pietro Mennea, applausi per la stella dedicata al mito della velocità italiana, per il presidente Giovanni Malagò un orgoglio ricordare il suo esempio. C'è un piccolo episodio legato allo Stadio dei Marmi tra Mennea e Aldo Moro. Sì, assolutamente. Dunque, Pietro nel 74 era a Roma per preparare i campionati europei di atletica e si allenava allo Stadio dei Marmi e lì dietro c'è la Farnesina che è il Ministero degli Esteri e lui vedeva sempre un signore che camminava lungo sopra gli spalti e a un certo punto è arrivata una persona e ha detto guarda c'è l'onorevole Moro che la vorrebbe conoscere pugliese come lui e ha detto ci mancherebbe un grande onore e piacere e parlarono e l'onorevole Moro gli disse ma cosa sta studiando e lui stava finendo l'Isef e gli disse quando finisce si iscrive a Scienze Politiche e Pietro si iscrisse a Scienze Politiche dietro Consiglio di Aldo Moro. Anche quello è un allenamento dei pianeti sa Manuela? due grandi persone che si sono incontrate Sì veramente lui ha avuto tante occasioni tante storie particolari che veramente da raccontare ci sarebbe veramente moltissimo Una vita una vita intera e 57 secondi con Giovanni Paolo II guardate Nell'83 me ne incontra anche Papa Giovanni Paolo II ecco vediamo in questa fotografia qual era l'occasione questa era al Don Bosco ma quell'anno lì io sono stato scelto per fare il tedoforo nel giubileo dello sport che si è tenuto allo stadio olimpico quindi però era un fatto un episodio molto bello importante incontrare personalità di questo come Papa Voitiva è stata una grande persona adesso non devo dirlo io poi lui è molto sportivo è molto molto e diverse volte abbiamo parlato anche di dello sport polacco lì c'era ai miei tempi c'era Voronin Dunetsky che lui conosceva bene lui era un atlete in fondo conosceva bene io mi ricordo una bella figura di Papa ma soprattutto di uomo Allora nel nome di Pietro Mennea Fondazione Pietro Mennea Onlus che cosa fate? Allora la Fondazione Pietro Mennea Onlus l'ha voluta lui non è uno pensare che è una cosa che è celebrativa nata dopo no l'ha voluta lui perché lui ha detto io ci metto la mia faccia cioè io so che tutto quello che entra va dove deve andare in realtà la Fondazione poi come organizzazione eravamo soltanto io e lui poi ci sono tanti amici che ci aiutano perché non ci sono spese extra lui diceva ma sono piccole cose però quelle piccole cose arrivano quindi in fondo il mare è formato da gocce quindi l'importante era dedicato soprattutto è dedicato soprattutto ai giovani ai bimbi malati a portare avanti l'idea di sport come strumento di formazione e portatore di valori insomma a portare Pietro Mennea ovunque questo è il senso il progetto Esosport realizza piste d'atletica sempre nel nome di Pietro Mennea con materiale di riciclo proveniente da scarpe e da ginnastica usate e poi c'è la cicloavventura Barletta Formi a Roma nel settantesimo anniversario della sua nascita a 550 km sulle strade di Piero in bici però questa volta in bici questa si è svolta un po' di tempo fa che è stata questa celebrazione tra Barletta a Roma percorrendo tutte le città più importanti relativa a Pietro e poi in luglio il prossimo luglio questi ciclisti amatori ma insomma fino a un certo punto partiranno da Roma per andare a Monaco di Baviera per celebrare i 50 anni dell'Olimpiade di Monaco su cui Pietro ha scritto esatto e il terzo posto di Pietro Mennea nella sua prima Olimpiade certo che si Pietro Mennea ha scritto anche tanti tanti libri ancora tantissimo avremmo da dire il Freccia Rossa 1000 è arrivato e l'hanno chiamato la Freccia del Sud Pietro Mennea e vedere quella figura così disegnata nel suo gesto di corsa fa sì che ogni volta che ci si saliva sopra e uno diceva sono con Mennea quindi il treno correrà ancora di più certo lei è una persona splendida grazie se lo lasci dire lo dico io lo dice Eugenia Scotti Natalia Castiglia tutta la redazione dell'Ora Solare siamo tanti facciamo rumore grazie di essere stata con noi grazie di cuore a voi grazie veramente di essere stata con noi continuiamo ad andare di corsa oggi continuiamo ad andare di corsa nel nome di Pietro Mennea e adesso vi raccontiamo grazie a tutti